Carlentini, i carabinieri scoprono una piantagione di marihuana ai santuzzi, due denuncianti. Due persone denunciate all'autorità giudiziaria Redusea per produzione di sostanza stupefacente del tipo marihuana. Questo è il bilancio di un'operazione condotta dai carabinieri dell'aliquota operativa della compagnia di Augusto, unitamente ai colleghi dello squadrone Eliportato, cacciatore Sicilia. A seguito di attività info-investigative, i carabinieri hanno scoperto all'interno di un agrumento di circa 4.000 m2, nel comune di Carlentini, una floridissima piantagione di cannabis indica, coltivata nella centrale località Santuzzi di Carlentini. Ben occultate dalla vegetazione, sono state rinvenute circa 500 piante, tutte in fioritura avanzata, dall'altezza circa di 2 metri, con relativo sistema di irrigazione a goccia, temporizzatore elettrico e materiale per l'essicamento all'interno di piccole serre. L'intera piantagione è stata subito estirpata, alcuni campioni sono stati inviati ai laboratori dell'AS di Catania per stabilirne la qualità e la quantità del principio attivo. Gli accertamenti rapidamente svolti dai militari hanno permesso di accreditare come la coltivazione fosse riconducibile a due uomini di 38 e 31 anni residenti nella zona, i due per celare la loro attività e rendere difficile la riconducibilità della piantagione l'avevano abusivamente impiantata nel terreno ordinariamente incolto e non curato dal reale proprietario residente altrove. Le stesse sono state quindi denunciate a piede libero dall'autorità giudiziaria di Siracusa. Grazie.